Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il telegiornale in diretta di Udinews TV. Apriamo con lo sport perché ovviamente oggi la giornata è dedicata soprattutto alla partita dell'Udinese a Bergamo. Fra due ore il fischio d'inizio con l'Atalanta, un'Atalanta che viene sicuramente da una settimana favorevole con il vittorio in campionato in Coppa Italia. Starà alla squadra di Tudor a rendere la marcia difficile questa sera. Siamo collegati proprio all'esterno dello stadio Azzurri d'Italia con Jacopo Romeo per le ultimissime. Buon ritrovato Jacopo. Ciao, ciao Valentina. Siamo già qui allo stadio Atleti Azzurri d'Italia che ospiterà l'ultima gara interna dell'Atalanta prima dei lavori di restyling che partiranno praticamente da domani e che terranno poi per un'intera annata la formazione di Gasperini lontana da questo impianto. Un'Atalanta che è riduce dalla conquista della finale di Coppa Italia e che soprattutto complice alla sconfitta di ieri del Milan vuole tentare un allungo non decisivo ma comunque importante in zona Champions. È una partita dunque che mette di fronte squadre dalle forti anche se diverse motivazioni perché anche l'Udinese vuole tentare di ampliare il margine che la separa attualmente dall'Empoli aumentare questi quattro punti di scarto in tal senso nonostante un impegno oggettivamente difficile la partita di questa sera rappresenta una buona occasione. Una buona occasione per pescare il jolly. È una di quelle cosiddette partite bonus. Studor ci crede, ci crede tutta l'Udinese perché l'Atalanta per esempio ha avuto qualche difficoltà soprattutto qui all'Atleti Azzurri d'Italia contro squadre di bassa classifica. Penso al Chievo, penso all'Empoli, entrambe partite pareggiate. Allora l'Udinese si affiderà a tutti i suoi uomini di maggior talento e di maggior vivacità per provare a punire quelle che possono essere i punti deboli dell'Atalanta ossia qualche spazio di troppo lasciato in difesa da una squadra che sappiamo praticare un calcio molto molto offensivo. E in tal senso dovrebbero andare anche le scelte di formazione perché sarà sempre 3-5-2 e non è un caso che Tutor lo confermi una volta di più in questa gara perché Bergamaschi proprio contro le squadre che adottano questo sistema di gioco hanno accusato qualche difficoltà. Un ultimo giovedì la Frentina qui ha perso ma ha creato dei grattacapi con quel modulo all'Atalanta. Dovremmo vedere Larsen tra i tre difensori centrali per sfruttare anche il suo maggior passo e la sua rapidità dalla parte Papu Gomez e a centrocampo sugli esteri da Alessandro Insiclar mentre l'eredità dell'infortunato Fofana dovrebbe essere raccolta alla fine da Sandro con Mandragora spostato nel ruolo di mezzo alla destra davanti due posti per tre giocatori Okaka, Pussetto e Lasagna con Pussetto e Lasagna che potrebbero essere favoriti proprio per sfruttare queste ripartenze e queste palle filtranti che l'Atalanta ha dimostrato di soffrire e in tal senso Lasagna ha dimostrato di saper far male in campo aperto e la partita di San Siro contro il Milan per esempio ne è una buona prova. Tutto questo ve lo racconteremo con tanto di crisma di ufficialità sulle formazioni a partire dall'ora 18 durante studio e stadio per avvicinarci al match e per commentare poi quelle che saranno le scelte dei due allenatori perché anche in casa Atalanta sembrerebbe che alla fine gli osi pilcici dovrebbe farcela addirittura per giocare dal primo minuto. Questi erano gli ultimi aggiornamenti. Grazie Jacopo, dalle 18 alle 22.30 saremo in diretta con studio e stadio proprio per raccontarvi tutto quello che succederà a Bergamo e daremo anche un'occhiata dalle 20.30 in poi invece alla Carnera dove si giocherà gara 2 contro Biella quindi qualche finestra informativa di telecronaca anche sul risultato che ci arriva dal palazzetto dalle 18 alle 22.30 con Massimo Campazzo Eleonora Nocce e i loro ospiti. Adesso passiamo alla cronaca con gli ultimi aggiornamenti c'è stato un incidente sul lavoro a Villa Santina nel primo pomeriggio in Piazza Mercato il cantiere è stato posto sotto sequestro un 53ne di Raveo mentre stava spostando alcuni pannelli elettorali all'interno del magazzino comunale si è infortunato agli arti inferiori è stato elitrasportato a Udine è grave ma non sarebbe in pericolo di guida invece un'altra operazione ci è arrivata da poco da parte dei carabinieri di Sacile che hanno individuato e denunciato un'altra persona dedita alla coltivazione della marijuana nella serata del 25 aprile erano stati inviati presso un'abitazione in via San Giacomo a Brugnera dove era stato segnalato un dissidio familiare un 28enne si era impossessato illecitamente della collana in oro della madre probabilmente per investirla nell'illecita attività e dopo che la donna durante il litigio aveva rinvenuto le piante di marijuana si era barricato nella camera da letto quando sono arrivati i carabinieri il giovane non ha posto resistenza ha aperto la propria stanza e all'interno è stata ritrovata una serra completa per la coltivazione munita di lampada, umidificatore, ventola e temporizzatore rinvenute anche 12 piante di marijuana in vaso di circa 30 cm di altezza altri 17 grammi della sostanza già suddivisa in sacchetti pronti allo smercio l'uomo già noto ai carabinieri come consumatore di sostanze stupefacenti già dall'anno scorso adesso è anche indagato per coltivazione e detenzione illecita invece negli scorsi giorni c'è stato un maxi furto di gioielli in una villa udinese il valore ammonta più di 100 mila euro i banditi sono penetrati nell'abitazione approfittando dell'assenza per ferie dei proprietari è stata la padrona di casa al rientro dalle vacanze a scoprire il furto sarebbero entrati dalla porta d'ingresso però senza scardinarla non ci sono infatti segni di effrazione i ladri avrebbero rovistato nelle camere da letto dove si trovava una cassaforte amore dopo averla forzata anche con la flex hanno rubato i tanti gioielli che vi erano custoditi a sagrado invece alcuni malviventi hanno fatto irruzione in un'abitazione di proprietà di un anziano assistito da due badanti per riuscire a impossessarsi di poca centinaia di euro hanno minacciato una delle due donne con una pistola l'altra badante è stata raggiunta al volto con un pugno dopo essersi impossessati del magro bottino i rapinatori sono fuggiti le due donne sono state assistite dal personale sanitario hanno riportato lesioni guaribili in una settimana sono state entrambe malmenate sul posto i carabinieri della compagnia di Gradisca in azione anche la banda dei distributori a Cervignano per la precisione a Strassoldo in via Cisis ieri sera poco dopo le 11 e mezza è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i carabinieri del Norm di Palmanova hanno trovato la strada cinesca abbassata così come la porta d'ingresso degli uffici e del bar del distributore dalle immagini della videosorveglianza si vede la banda composta da quattro persone con passamontagna che dopo aver scardinato le porte hanno utilizzato un SUV e un'utilitaria per poi darsi alla fuga i malviventi sono riusciti a trasportare all'esterno le slot machine che erano l'obiettivo del furto e oggi una ventina di migranti sono stati fermati dalla polizia tra il comune di Muggia e Trieste sarebbero irregolari giunti in Italia attraverso la cosiddetta rotta balcanica dopo aver attraversato nel corso della notte l'area tra Slovenia e Italia i migranti identificati sono tutti di nazionalità pakistana sul posto sono intervenuti anche i carabinieri individuati sono stati poi portati nelle rispettive caserme e commissariati per l'identificazione i 19 si trovavano nei pressi di un centro commerciale della zona quando sono giunte le forze dell'ordine alle quali passanti automobilisti avevano dato indicazioni in merito e adesso passiamo alla politica perché scatta la selezione per i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia la giunta a Fedriga ha infatti emanato il BAMDO che dopo la riforma delle aziende porterà a mezzo milione di risparmi stanziati 13 milioni poi per la cura dei fiumi e 850 mila euro per le proloc la regione compie un ulteriore passo in avanti verso la stabilizzazione del sistema sanitario l'emanazione di un avviso pubblico per la formazione di una rosa di candidati idonei a ricoprire le posizioni apicali delle aziende e degli enti del settore rappresenta questo infatti il primo atto della seconda fase della riforma il documento approvato dalla giunta permetterà di identificare con ampio margine rispetto all'assegnazione degli incarichi i possibili dirigenti del servizio sanitario evitando che le posizioni rimangano temporaneamente vacanti inoltre la riorganizzazione del sistema che dalle attuali 8 passerà alle 5 nuove aziende sanitarie porterà un risparmio di circa mezzo milione di euro dato che diminuirà anche il numero complessivo dei direttori generali la procedura prevede una selezione di identificazione delle rose dai quali poi la giunta nominerà i direttori generali delle singole strutture i candidati alla data di scadenza dell'avviso non dovranno aver compiuto il 65esimo anno di età e non devono trovarsi in cui è scienza novità in vista invece per le piccole e medie imprese che danno vita a reti d'impresa sburocratizzate le pratiche e i contributi potranno arrivare fino al 50% della spesa ammissibile con un massimo di 150 mila euro a progetto approvato poi il piano triennale 2019-2021 degli interventi a difesa del suolo che consistono in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua il programma ha un valore di oltre 13 milioni di euro destinati al torrente Corno al fiume Tagliamento al torrente Cosa e al Noncello all'Edra all'Orvenco e al Cormor infine è stata approvata la graduatoria dei contributi alle Proloco a disposizione complessivamente 850 mila euro e a proposito di sanità l'azienda sanitaria bassa friulana Isontina può contare ancora una volta sul supporto della fondazione Carigo per un nuovo progetto di ricerca l'intento è quello di prevenire delle specifiche tipologie di carcinoma che insorgono nella popolazione maschile la fondazione Carigo e l'azienda per l'assistenza sanitaria numero 2 bassa friulana Isontina sono sempre più alleate questa volta sul fronte della ricerca e prevenzione di specifiche tipologie di carcinoma che insorgono nella popolazione maschile i due soggetti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa triennale per la valutazione della ricaduta vaccinale anti-HPV proseguendo nel cammino di progettualità innovative tese alla protezione promozione della salute della comunità con particolare riferimento ad alcune fasce di maggior fragilità sociale nello specifico il progetto si rivolge alla prevenzione e alla ricerca su carcinomi la cui insorgenza è connessa nell'80% dei casi alla presenza di genotipi ed alto rischio oncogeno HPV in particolare il progetto si rivolge all'utenza afferente al centro di sorveglianza per le malattie a trasmissione sessuale di Gorizia inserito nella rete coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità è operante in stretta collaborazione con la Regione tra le altre iniziative promosse vi sono corsi destinati a medici di medicina generale e specialisti convenzionati e percorsi di prevenzione anche vaccinale con le associazioni territoriale Comerci Gay Per gli amanti delle frecce tricolori il primo maggio non è solamente la festa dei lavoratori ma è soprattutto la ricorrenza per vedere la pattuglia acrobatica nazionale nell'ultima giornata di addestramento prima del decollo della stagione che porterà il gruppo in tour in tutta Italia e in Europa 8.000 spettatori 300 militari addetti alla sicurezza un centinaio di volontari di diverse associazioni locali 10 airmacchi MB339 in volo e un solo solista è tutto pronto nella base dell'aeronautica militare di rivolto sede del secondo stormo e case delle frecce tricolori per l'ultima giornata di addestramento acrobatico che si svolgerà mercoledì 1 maggio un evento è riservato a familiari ex appartenenti al gruppo ai soci dei club e agli amici della pattuglia acrobatica nazionale è un lavoro che inizia almeno 60 giorni prima con tutte le autorizzazioni del caso ovviamente e le predisposizioni della sicurezza non solo interna ma anche esterna quindi c'è un grosso coinvolgimento di tutte le istituzioni locali in particolar modo quest'anno saremo tra virgolette anche supportati dalla brigata Giulia con i suoi uomini per la parte di protezione e ovviamente anche tutta la protezione il grosso sforzo della protezione civile che ci aiuta appunto che ci supporta affinché il primo maggio sia una manifestazione di successo consideri che noi abbiamo un solo risultato l'eccellenza da qui in poi parte la stagione invece delle frecce tricolori la prima uscita sarà a grado il 5 maggio quanto siete orgogliosi di ospitare la PAN proprio qui a Rivolto che ormai è diventata un simbolo del Friuli nel mondo assolutamente è la nostra missione il supporto la missione del secondo storm è proprio quella di supportare la pattuglia che come hai detto tu giustamente è un orgoglio non solo di Rivolto non solo del Friuli ma è un vero e proprio orgoglio nazionale il decollo il decollo è previsto per le 11 del mattino avrà termine alle 12 e 30 con un afflusso previsto dalle 8 e 30 alle 10 l'entrata sarà solo rigorosamente su invito e avverrà tramite l'utilizzo di moderni dispositivi di controllo una delle principali è stata quella di accertarci che entri solo il personale invitato e l'abbiamo messo in atto tramite l'adozione di un QR code che è stampato sugli inviti in modo che possiamo collegare sia le persone che entrano con i loro relativi ospiti sia con le relative autovetture che transiteranno per l'aeroporto Questi allora i programmi della pattuglia acrobatica nazionale adesso noi parliamo indirettamente anche direttamente degli europei Under 21 perché vi abbiamo raccontato oggi in giornata come siano partiti i lavori per l'installazione del nuovo Accreditation Center per questa manifestazione sorgerà nel luogo dove solo pochi mesi fa c'era l'ex Udinese Store che è stato abbattuto su richiesta del Comune ci sono tanti interrogativi legati a questo avvenimento allora ci colleghiamo con la loggia del Leonello dove vedo pronto Davide Zanirato insieme al consigliere comunale Enrico Bertossi proprio per raccontarci qualche novità in merito a questo avvenimento a te Davide Sì Valentina ben trovata inizierà tra breve alle 17.30 al consiglio comunale di Udine tanti punti all'ordine del giorno ci sono alcune variazioni di bilancio riconoscimento di debiti fuori bilancio poi tantissime interrogazioni interpellanze sui temi che hanno tenuto Banco in città nelle ultime settimane dal caso del Torre a poi gli altri argomenti come la festa della patria dalla Friul ma con Enrico Bertossi ci concentriamo proprio sulla notizia che vi abbiamo dato oggi mostrandovi proprio con le immagini come si sia proprio riniziato a ricostruire sull'ex sede del store dell'Udinese il nuovo Accreditation Center per gli europei e Bertossi molti cittadini e tanti si fanno questa domanda com'è possibile che si ricostruisca dove si è fatto demolire? Sì cercheremo di capire perché è stato fatto demolire un qualcosa che viene ricostruito esattamente nello stesso punto con le stesse distanze con le stesse modalità di quello che è stato demolito pare quasi un'impuntatura contro l'Udinese senza tener conto che dopo bisogna ricostruirlo con dei soldi pubblici oltretutto si è accampato il motivo di un regolamento che prevede un certo rispetto dal cimitero ecco io mi chiedo ricostruendolo esattamente nello stesso punto non c'è più il regolamento non c'è più il cimitero oppure il metro si è allungato improvvisamente ecco cercheremo di far chiarezza su queste cose perché questo è un pessimo modo di amministrare la città ma soprattutto è anche un pessimo modo di aprirsi a rapporto con il calcio con l'Udinese e anche con gli europei che sono alle porte di cui non si vede ancora un programma collaterale che sia uno tra l'altro proprio anche su questa questione ci sarà la discussione sull'interpellanza fatta anche da Giacomello per la minoranza rimanendo invece sulla questione dell'ex store tra l'altro la società si era anche resa disponibile a smontarlo proprio il primo luglio il giorno dopo la fine degli europei ma questa opportunità non è stata colpa ma sì sono cose veramente assurde ed incomprensibili pare quasi che il sindaco Fontanini goda a dare fastidio all'Udinese Calcio con queste piccole cose poi ieri sera invece è stato uno dei primi a telefonare al Pordenone per congratularsi e dirgli cosa che non aspetta lui perché si è dimenticato che lo stadio non è del comune ma è in gestione all'Udinese Calcio e dirgli che sono disponibili a ospitarli a Udine probabilmente non nello stadio Friuli perché è di competenza di qualche di un altro ma probabilmente voleva ospitarli in municipio o da qualche altra parte ovviamente sto scherzando però sono cose francamente che si fa fatica a comprendere come dicevo prima un'impuntatura per una questione regolamentare che invece adesso viene bellamente sorpassata cercheremo di andare a fondo perché poi oltretutto mentre prima erano soldi dell'Udinese adesso la ricostruzione di quel fabbricato è a spese della comunità di tutti i cittadini in tempi di vacca e magre forse sarebbe meglio spendere i soldi in modo più oculato grazie grazie a Enrico Bertosi lo lasciamo al Consiglio Comunale per il momento nella loggia del Lionello è tutto a te Valentina grazie grazie David seguiremo ovviamente il Consiglio Comunale poi vi daremo aggiornamenti anche all'interno del nostro prossimo notiziario in diretta quello delle 22 e 30 adesso parliamo di un pericolo marcato relativo alle valanghe che è stato notificato quest'oggi dal consueto bollettino oggi e domani sui monti delle Friuli Venezia Giulia c'è il bollino rosso perché le recenti nevicate hanno portato sopra i 1500 metri 50-80 centimetri di nuova neve su tutto il territorio montano i 27 entriionali hanno fortemente rimaneggiato il manto nevoso oggi in quota zone con evidenti accumuli si alternano a zone fortemente erose sui pendii ripidi sopra i 1500 metri lungo i percorsi abituali e in tutte le esposizioni sono possibili valanghe spontanee di medie e grandi dimensioni anche di fondo sui pendii prattivi più ripidi qualche fenomeno isolato può interessare i tratti più in quota della viabilità normalmente soggetta al pericolo valanghe il distacco risulta possibile anche al passaggio di un singolo sciatore o escursionista nelle zone di accumulo per domani è previsto cielo nuvoloso con la possibilità di deboli precipitazioni saranno possibili valanghe spontanee di media alcuni casi di grande dimensione sui pendii ripidi non ancora scaricati soprattutto nelle ore calde sotto i 1800 metri attese valanghe di neve umida anche di fondo mentre in quota saranno di neve asciutta e adesso diamo uno sguardo alle notizie anche trissi che arrivano dall'estero con le Hansa News un uomo ha sparato tra la folla lungo una strada di Baltimora uccidendo una persona e ferendone altre sette secondo la polizia l'uomo si è avvicinato a piedi ad alcune persone e ha fatto fuoco in modo estremamente mirato ma senza un muovente ancora chiaro inondazioni e frane causate da piogge torrenziali hanno ucciso negli ultimi giorni in Indonesia almeno 19 persone e causato migliaia di sfollati i soccorsi sono ostacolati da interruzioni di corrente strade inaccessibili e grandi distanze tra le diverse aree colpite dai disastri Papa Francesco mostra di avere sempre a cuore la situazione dei profughi nei centri di detenzione libici e il suo pensiero va proprio a loro con una richiesta di protezione rivolta alla comunità internazionale in occasione del conflitto che insanguina il paese vi invito ad unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia la cui situazione è già molto grave e resa ancora più pericolosa dalle conflitto in corso afferma le regina Celi in piazza San Pietro faccio appello perché specialmente le donne i bambini e i malati possano essere al più presto evacuati attraverso corridoi umanitari aggiunge il pontefice l'invito del Papa alla preghiera riguarda anche quanti hanno perso la vita o hanno subito gravi danni a causa delle alluvioni che hanno colpito nei giorni scorsi il Sudafrica provocando oltre 50 vittime anche a questi nostri fratelli e il suo appello non manchi la nostra solidarietà e il concreto sostegno della comunità internazionale nel commento alle letture odierne nella domenica detta in Albis in cui la chiesa celebra la divina misericordia Francesco si sofferma sui tre doni portati da Gesù risorto ai discepoli la pace la gioia la missione apostolica noi ci fermiamo qui l'informazione ritorna alle 22 e 30 però noi rimaniamo in diretta a partire dalle ore 18 con studio e stadio per seguire Atalanta Udinese e anche GSA Biella gara 2 per i playoff buona serata in compagnia di Udinius TV Grazie a tutti